Allerta meteo in tutta la regione fino alla mezzanotte di lunedì 1 luglio quando i fenomeni meteorologici dovrebbero aver cessato la loro fase più acuta. Il maltempo ha sferzato le province di Pordenone e Udine. Forte vento, temporali e grandine che si sono alternate, ironia della sorte, con fugaci schiarite. Supercelle che formano il downburst, termine tecnico per descrivere quel fenomeno di esplosione discendente dove acqua, vento e grandine si miscelano tra loro creando situazioni particolari, stile piccole e brevi tempeste. Poco dopo mezzogiorno presa di mira l'area a cavallo di Aviano, Polsenigo e Fontana Fredda la parte nord-occidentale dell'Interland pordenonese dove il maltempo ha scatenato la sua potenza tra nubi fragili, grandine e conchicchi di una certa dimensione. A Sacile il Fortunale ha battuto gli alberi che costeggiano la passerella ciclopedonale di Prac a Stelvecchio obbligando il comune alla chiusura. Anche la provincia di Udine non è stata risparmiata, specie la zona del Medio Basso Friuli a Rivignano dove le strade in pochi minuti si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua interrotte fino al completo drenaggio, alberi e rami divelti dal vento a Pocenia. Nella giornata di martedì 2 luglio al mattino cielo poco nuvoloso verso la costa, variabili altrove. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci sparsi e isolati temporali più probabili tra le prealpi e la pianura.